Salve, sono Silvia Baccio e partecipo a questa edizione di ritratti contemporanei con l'opera Emozioni sulla pelle, eseguita a matita su carta 40x60 e tratta da uno scatto del fotografo contemporaneo Gerasimenko. Nelle mie opere cerco sempre di far emergere la forza del soggetto, ma anche la sua fragilità. In quest'opera è rappresentata attraverso le emozioni che sono impresse sulla pelle, come rabbia, paura, speranza, ma anche gioia, coraggio, quindi emozioni dell'animo umano, sia positive che negative, ma anche dal suo sguardo, che a tratti ci sembra ricco di speranza per il futuro, ma traspare anche una certa paura. Grazie e in bocca al lupo a tutti!